Ciao ragazzi, buon mercoledì pomeriggio dal vostro bandito rosso nero. Ci siamo persi il Milan. Sì, non lo ritroviamo più, non lo riconosciamo più, non riconosciamo più i nostri giocatori, il nostro allenatore, non riconosciamo più ciò che eravamo. Adesso indaghiamo insieme sul perché. Pollicione se vi piace il video, iscrizione se vi piace il canale, campanella per le notifiche, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Un mese fa ho fatto due video. Uno, copertina, era nebbia fitta, un mese fa. Dovevamo ancora giocare la partita contro il PSV Eindhoven. L'altro, la copertina era pessimista? No, realista. Quindi eravamo a fine dicembre, no metà dicembre, no a fine dicembre, prima della partita col PSV Eindhoven, che poi è stata l'amazzata che ha portato Pioli a tenere della squadra Milanello. E lì i miei dubbi, le mie propensità che già c'erano, si sono acuite. Partiamo da un punto. Io non credo, avendo giocato a calcio per tanti anni, che uno disimpari a giocare a calcio. Quindi non credo al fatto che siano diventati tutti delle pippe. Tutti. Contemporaneamente, nello stesso momento, spento l'interruttore, tutti diventate pippe. Non ci credo. Non credo al fatto che il mister si era incoglionito tutto in un botto. 20 giorni fa cantavamo in 70.000 Pioli is on fire. Ha fatto qualcosa di straordinario lo scorso anno. Non credo che neanche per lui valga questo discorso. Anche se per l'allenatore è un po' diverso, perché dipende molto dal rendimento dei giocatori. Quindi resto focalizzato sui giocatori. Io non credo che si spenga un interruttore e si disimpari a giocare a calcio. Perché la squadra che abbiamo visto in rapida successione, Torino, Lecce, Inter, Lazio, sembra una squadra di giocatori che non sanno giocare a calcio. Ma faccio un esempio su tutti. Teo Hernandez è quello che qualche mese fa prendeva una palla al limite dell'aria, scartava tutti, arrivava in porta e segnava. Esempio, un esempio, ma potrei farne per tutti i giocatori. Tranne per quelli che poi alla fine del video dirò che per vari motivi non possono più giocare. Non possono più giocare. Ce ne sono un paio, due o tre non possono più giocare. Ma a questo ci arriviamo dopo. Sarà un po' più lungo oggi il video. Seguitemi, cercate di resistere. Anche perché poi nei commenti mi potete dare una mano in questa indagine. Quindi io un mese fa titolavo Nebbia fitta e pessimista non realista. Vi devo confessare che da tre anni a questa parte, cioè da quando il mondo è cambiato in molte cose, ho sviluppato un intuito che non pensavo di avere. Non pensavo sinceramente di avere questo intuito. Non lo so cosa sia successo, non lo so cosa... ma mi trovo a intuire cose che poi... non è che sono sensitivo, è intuizione. Intuisco, non riesco a spiegarvi il motivo, perché... ma intuisco. E quindi avevo intuito che qualcosa non andava, qualcosa non funzionava. Non mi convincevano le parole del mister, non mi convincevano tutti questi infortuni, non mi convincevano i misteri su Mignon, tante cose che non mi convincevano. Poi vedevo gli amichevoli e dicevo ma... che succede? Dov'è la squadra? Dov'è lo spirito della squadra? Io se c'è una cosa che ho imparato quando giocavo a calcio è che la cosa più importante per rendere è la testa. Qua comanda tutto. Qua comanda tutto. E quando avevo dei momenti in cui c'era qualcosa che non andava, preoccupazioni... era più facile farsi male, avere il problema muscolare, avere il problema fisico. Quindi poi, dopo la testa, viene il fisico. C'erano delle partite che avevo il polpaccio indurito, non riuscivo a correre e lì erano figuracce. Erano figuracce. Ma io lo sapevo il perché. Lo sapevo. Magari non dicevo niente al mister perché volevo giocare lo stesso. Però io sapevo il perché. Sapevo che quel polpaccio quando correvo mi faceva male e quindi non rendevo. Quindi testa, fisico. Ma non si disimpara a giocare a calcio. Non si disimpara. Quindi il Calabria ha visto ieri sera non è che ha disimparato a giocare a calcio. Il Giroud che abbiamo visto ieri sera non ha disimparato. Quindi prima testa, poi fisico e poi se a posto la testa, a posto il fisico, si gioca. Ma c'è un'altra cosa che conta. Il gruppo. Perché per la prestazione individuale sono le prime due cose, diciamo, testa e fisico. Ma per la prestazione di gruppo, cioè per avere il rendimento della squadra, serve il gruppo. Quello che noi avevamo lo scorso anno. Il gruppo, lo spirito di squadra, essere un'unica cosa quando si scende in campo. E allora se c'era quello si ottenevano i risultati. Se non c'era quello, io magari facevo anche due gol ma si perdeva 4-2. Quindi i miei due gol erano serviti a niente. Quindi testa, fisico, gruppo. Poi, se hai calciatori buoni, ottieni i risultati. In questo momento, scusate, in questo momento non c'è il gruppo. Non c'è il gruppo. Quindi vuol dire che è successo qualcosa di grosso, qualcosa di clamoroso, qualcosa che noi non sappiamo ma loro sanno. Qualcosa che ieri, tra il primo e il secondo tempo, li portava a non guardarsi in faccia l'uno con l'altro. Loro sanno. Il mister sa. Perché se il mister sceglie per ben due volte, durante la preparazione, di prendere i giocatori e di tenerli a Milanello, evidentemente per parlare di qualcosa, vuol dire che il mister sa. E loro sanno. Ma quando si perde l'alchimia, quando si perde lo spirito del gruppo, è dopo è dura di prenderlo. È molto dura di prenderlo dopo. Da lì, tutto il resto. La testa che non segue più, il fisico che non c'è. Vedete il numero di infortunati incredibile. E si continuano a far male. Guardate Tom Horry. Già era in difficoltà. Già era in difficoltà psicologica. Si rompe. Quindi qualcosa è successo. È successo a livello di spogliatoio, qualcosa è successo di grave. Non so cosa. Non so cosa. Avere delle intuizioni non significa essere sensitivi a vedere le cose. Vuol dire intuire. Intuire che c'è qualcosa che non va. E questo non c'è bisogno di essere intuitivo in questo momento perché si vede. Magari un mese fa sì, ma adesso è ovvio ed evidente a tutti. Giusto? Come uscirne? Boh. Ragazzi, non vi seguo sul Cambiamo il mister. Su quello non posso seguirvi perché io credo che il mister sicuramente anche lui è perso in questo momento. Perché lo si vede dalle espressioni facciali, lo si vede dalla mimica, lo si vede da come risponde alle domande. Ma lui sa. Lui sa cosa è successo. Ecco, forse che ci può salvare in questo momento può essere solo la società con delle scelte forti. Se è successo qualcosa di grosso nello spogliatoio, si metta mano a ciò che è successo, si risolva in qualche modo la situazione, anche nel modo più drastico, io non so come, anche nel modo più drastico. Si metta mano alla situazione perché l'unica maniera, l'unico salvagente lo può lanciare la società, perché la squadra e il mister mi sembrano veramente, veramente persi. Persi in questa nebbia che improvvisamente è scesa su Milanello e sullo spogliatoio del Milan. Forse fra qualche anno ci racconteranno cos'è successo, non lo so. In questo momento sicuramente nessuno parla. Ma qualcosa di grosso deve essere successo. Come unico a sostenerlo, da mesi sostengo che qualcosa di strano sta succedendo a Mignon. Chissà che anche quello che è successo a Mignon non sia causa di quello che poi è successo nella mente dei giocatori, nella testa dei giocatori. Io vedo facce di giocatori che sono completamente diverse rispetto a quello che erano prima. Io guardo Teo negli occhi quando gioca e non lo riconosco. Guardo Tomori e non lo riconosco. Guardo Kalulu che non aveva paura di niente e non lo riconosco. Guardo Giroud e non lo riconosco. Leao lo riconosco. Leao lo riconosco perché Leao è sempre quello. Leao se le cose vanno bene si esalta. Si esalta. Se le cose vanno male sparisce. E questo non mi piace. E qui arrivo al finale del video in cui dico dove bisogna... Ci sono delle cose che bisogna subito deciderle. Ok? Ok? Innanzitutto che non si gioca più col trequartista. Che sia Charles de Cattelar che sia Diaz. In questo momento si accomodano in panchino tutte e due. Punto. 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 In questo momento le due fighette si siedono in panchina a guardare la partita. Prima cosa. Seconda cosa. Prendete un portiere. Ve ne posso consigliare 4 o 5 che giocano in prima categoria. In prima categoria. Ne conosco 4 o 5 che sono meglio di quello che abbiamo in porta adesso. Seconda cosa. Su questo fate tutte le analisi mentali che cazzo volete. Ma su questa cosa non si transige. Mai più importa quel palo della luce. Prendetelo dove volete. Avete speso 500 mila euro per Vasquez. Mettete Vasquez. Mettete quello della primavera. Mettete l'anima di chi volete voi. Basta. Chiuso il discorso lì. Terza cosa le hao. Terza cosa le hao. Allora io posso capire tutti i problemi mentali, i problemi familiari, i problemi fisici. Tutti i cazzo di problemi che volete voi. Ok? Però Tonali si sbatte. Però Benasser si sbatte. Però Tomori si sbatte anche sbagliando. Calulu si sbatte anche sbagliando. Girù si sbatte anche sbagliando. Ok? Ma tu, e parlo con te Raffaellino Leao, che vuoi 7 milioni e mezzo, 8, 9 forse, non è ancora deciso se firmare, se non firmare. A me non me ne frega un cazzo che firmi, caro. A me non me ne frega un cazzo che firmi il contratto. Di giocatori più forti di te al Milan, io ne ho visti a centinaia, non a decine, a centinaia. Io quello che non sopporto di vedere è che quando la squadra è in difficoltà si estranea dalla lotta, passeggia, cammina. Dice tanto io mi andò a prendere un contratto più ricco da un'altra parte. Ehi caro Raffaellino Leao, tu te ne puoi andare, non posso dirlo, te ne puoi andare ma mi hai capito. Dove puoi andare, hai capito? 7 milioni e mezzo, ma col binocolo te li devono dare, col binocolo. Perché è troppo facile fare i fenomeni quando le cose fanno bene. Ma gli ultimi atteggiamenti che hai avuto nella partita col Torino, nella partita con Lecce, nella partita con i Nero Assurdi, nella partita di ieri, fanno di te uno piccolino così. Piccolino così. Piccolino così. E quindi, basta Tatarusano. Quell'altra cosa non me la ricordo, quello che ho detto. Basta Tatarusano. Ma basta anche questi atteggiamenti di Raffaellino Leao. Basta. Basta. Perché ieri sera veramente se avessi avuto la possibilità di entrare dentro lo schermo ti avrei preso. Ma veramente ha male parole caro Raffaellino Leao. Troppo bello, troppo comodo fare i fenomeni quando le cose ti riescono bene. E poi diventare un omuncolo qualunque che si nasconde quando le cose vanno male. Scusate ma ce l'avevo qua questa. Più tardi un altro video. Proseguiamo l'indagine. Ragazzi se vi è piaciuto il video pollicione, iscrizione se vi piace il canale, campanella per le notifiche. Forza Milan sempre. Perché Leao o non Leao. Gente come Leao. O gente non come Leao. Milanisti si resta e Milanisti siamo noi.